Salve, io rappresento in realtà un produttore, Fater, che è produttore di ausili per incontinenza ed è per questo che siamo vicini a Senior Italia. E abbiamo questa, che ringrazio tra l'altro per concedermi questa opportunità, perché desideriamo sensibilizzare ancora di più le istituzioni presenti sull'inadeguata assistenza offerta ai pazienti incontinenti, ovvero ad oltre 4 milioni di nostri connazionali, per lo più over 65, quindi sostanzialmente nonni come voi. Vi chiediamo di fare di più alle istituzioni e dal più presto per ottimizzare le risorse e migliorare le condizioni dei pazienti incontinenti per consentire a noi produttori di competere sulla qualità e non sul prezzo. A fronte di un'importante voce di spesa nel bilancio di ciascuna regione, oggi infatti, a causa di una normativa obsoleta nella definizione dei criteri qualitativi di selezione, il sistema delle gare centralizzate ha ridotto incredibilmente la qualità e la quantità degli ausili a disposizione di alcuni fra i pazienti più fragili. Ricordo a tutti, infatti, che l'incontinenza è frequentemente associata ad altre patologie e che oltre un milione e mezzo di pazienti di questi sono allettati e non autosufficienti. In sostanza, il sistema sanitario attraverso le centrali d'acquisto sta offrendo agli incontinenti pochi pannoloni e di scarsa qualità e non perché non siano disponibili innovazioni tecnologiche, ma perché le attuali procedure d'acquisto e le modalità di valutazione appiattiscono le differenze qualitative e di fatto valutando i dispositivi soltanto sulla base del prezzo. Sono necessarie, e questa è una proposta concreta, linee di indirizzo che rendano omogenee a livello nazionale e non con differenze da regione a regione, le modalità di riconoscimento del grado di incontinenza e che attribuiscano a ciascun livello un insieme di prodotti dedicati in qualità e in numero. Da subito le regioni pragmaticamente possono avviare sperimentazioni a favore della libera scelta adottando procedure alternative d'acquisto che sono già previste nel codice degli appalti e che vedrebbe accreditati più fornitori quindi non solo un unico fornitore, costringendo l'industria, tutti noi, a competere sulla qualità affine che voi ci scegliate e non soltanto sul prezzo il modello garantirebbe inoltre a livello nazionale omogenità di trattamento e allo stesso tempo certezza della spesa pubblica ottimizzando le risorse e rispondendo realmente alle necessità dei pazienti incontinenti Secondo me questo è un piccolo passo in realtà per la lotta alla disabilità e se come ci si auspica è un passo verso l'ambito invecchiamento di successo Grazie mille Grazie e noi stiamo già lavorando affinché questo accada